Onorevole Martuscello, facciamo l'appello al voto, lo facciamo per Forza Azzurri, la lista con cui Forza Italia si presenta qui a Maddaloni a sostegno del candidato sindaco Andrea De Filippo. Sì, Forza Italia è presente nella lista Forza Azzurri, tutto il direttivo è impegnato in questa lista, è una lista totalmente politica, siamo consapevoli che dovremo dare poi la forza al sindaco di poter essere collegato direttamente col governo, questo è il nostro impegno e la nostra presenza, siamo l'unica lista politica che consentirà a Maddaloni di essere collegato direttamente col governo nazionale. Senta, cosa le piace di più di questa amministrazione uscente e soprattutto in questa amministrazione uscente c'era un vostro assessore, Gennaro Cioffi? L'amministrazione uscente merita di essere entrante proprio perché ha risanato i conti, perché ha messo ordine nella città, perché in qualche maniera ha lavorato per il bene della comunità e quindi quando ci sono sindaci così impegnati in maniera spassionata meritano una riconferma.